Allora, però ho parole nuove questa sera. Allora, pesciolino rosso, come si dice? Tonna! Pizza? Cuscus! Milano, come si dice Milano? Semplicissimo. Ancona! Va bene? E passiamo ai pronomi personali. Tu, che cosa significa tu? Tu, che cosa vuoi che significhi? Io, nu. Nu, tu, agli, su. Noi, nu, nu. Mi diverto da sola. Con un badda, con un badda. Voi, tu, tu. E' sorpresuna. Eh, sì, sì, sì. Quando si dice una cazzata. Bene. Allora. Tre i verbi che vi insegno questa sera. Il verbo avere. Ah! Il verbo essere. Ecco, il verbo essere l'ho cercato per molti anni nella stella, l'ho mai trovato. Allora ho capito che era un suono gutturale, che loro si tramandavano di madre o in figlia, e noi occhiologhi pensiamo che questo suono gutturale fosse... indicheremo così. Va bene? Andare, come si dice? Andare. Sko, che si legge Sgo. D'accordo? Alcuni aggettivi. Allora, bella. Tusca. Non acrilico. Non ce li vedete mai. Tutto lana. Tutto lana.